Benvenuti a questa tavola rotonda numero 2. Intanto ringrazio Gerardo Paterna di avermi invitato qui a fare da moderatore a questa tavola rotonda in cui si parla di futuro, tecnologia e agenzie immobiliari. In realtà il titolo è abbastanza per me stimolante, acquisizione, promozione e vendita, come la tecnologia può costruire un percorso digitale completo al servizio degli agenti. Ne parleremo insieme a degli ospiti che in questi ultimi anni sono dati molto da fare per portare tecnologia e innovazione all'interno dei processi che riguardano le agenzie immobiliari e inizio col presentarveli senza perdere troppo tempo con i collegamenti esterni e abbiamo in collegamento Federico Pagliuca, CEO di iRealtors. Benvenuto Federico. Ciao a tutti, ciao Paolo, buongiorno. Gianmarco Toscano, CEO di Planimetrie.net. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti e qui accanto a me Edoardo Ribicheso, CEO di Realistico. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Patrick Albertengo di Reopla. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Massimiliano Pochetti, CEO di Casa Share. Benvenuti. Grazie. Bando alle ciance, iniziamo subito. Chi ci sta guardando e siete veramente in tanti, vi starete chiedendo quali contributi ci possono dare questi signori accanto a me e in collegamento, proprio in funzione dei processi di evoluzione tecnologica che possono aiutarci, possono aiutare il mercato degli agenti immobiliari. Scusate di aiutarci, ma di mestiere faccio anche quello, come molti di voi sanno. Allora, siete aziende giovani con un forte imprinting digitale, entrate con due piedi nell'operatività dell'agenzia immobiliare. Acquisizione, promozione e vendita, come abbiamo detto. Come si costruisce un processo di lavoro digitale che possa affiancare la normale attività della gente? Quali limiti e resistenze trovate? Quali sono i benefici reali che derivano dall'adozione del digitale? Insomma, l'obiettivo è quello di favorire una transizione verso il digitale consapevole e produttivo. Questo penso che siano i temi che adesso sviscereremo insieme. Inizio con Patrick. Allora, Patrick, Reopla lavora in un settore molto sensibile, quello dei dati, ricordiamo Agent Pricing, che comunque aiuta le agenzie immobiliari nella costruzione della più corretta valutazione di un immobile. Qual è la vostra esperienza nella mediazione e quali differenze riscontrate rispetto al rapporto con l'interlocutore invece industriale, mi riferisco a banche piuttosto che a società di valutazione? Grazie mille intanto per la domanda. Allora, sì, noi siamo un'azienda che lavora con i dati, in particolare ci occupiamo da quasi cinque anni di valutazioni immobiliari e lo facciamo tramite un servizio che si chiama Agent Pricing e che viene utilizzato da molte agenzie immobiliari. Nel corso di questi cinque anni abbiamo avuto modo di conoscere molto bene il mercato delle valutazioni immobiliari lato agenzie, mentre è solo un anno, un anno e mezzo, è da un anno e mezzo circa questa parte, che lavoriamo anche con clienti che non sono agenzie immobiliari, che sono banche, società di perizia e quant'altro. In effetti questi due settori hanno necessità di dati in maniera completamente differente. Le agenzie immobiliari ogni volta che devono fare una valutazione, io chiaramente in questo caso parlo di valutazioni perché è quello su cui sono più preparato, l'agenzia immobiliare ogni volta che deve fare una valutazione deve poi prendere quella valutazione e portarla da un cliente e quindi la sua valutazione ha uno scopo commerciale, quello di andare da un cliente e prendere il suo immobile per metterlo sul mercato al miglior prezzo. Dal nostro punto di vista questo necessita di una profondità di dati, quindi di una quantità di dati maggiore e qua potrebbe essere una sorpresa per qualcuno, rispetto a quella di cui ha necessità una società di perizia o una banca. Perché questo? Le società di perizia e le banche lavorano su dei dati di input che sono automatizzati, quindi il famoso sistema AVM, nella quale i dati che vengono introdotti all'interno del sistema sono molto pochi, quindi la banca di un immobile conosce relativamente pochi dati e soprattutto ne analizza magari mille o diecimila o centomila insieme di immobili. Il risultato che la banca si aspetta non è la valutazione commerciale di un solo immobile, quindi qual è il corretto prezzo di mercato di quel solo immobile, ma è la valutazione totale del patrimonio e quindi è disponibile ad accettare un margine di errore maggiore. Nell'agenzia questo non è possibile, perché nel momento in cui un'agenzia deve fare una valutazione si trova a dover andare faccia a faccia con il cliente e sta parlando con una persona che gli sta per affilare frase fatta che se avrete sentito migliaia di volte, il bene più importante che ha a disposizione, quindi la casa. Per fare questo noi riteniamo che la valutazione immobiliare, quindi l'utilizzo dei dati nella valutazione immobiliare deve avere una forma molto più vicina a quella del marketing e della comunicazione, ovvero essere capaci di avere moltissimi dati a disposizione ma semplificarne l'esposizione verso il cliente. Quindi la differenza principale è appunto che l'agenzia dovrà poi presentarlo a qualcuno e dovrà farlo molto bene. Le banche e le società di perizia richiedono tutt'altro lavoro, quindi dei dati anche meno profondi. Normalmente questo servizio serve proprio nella fase iniziale, nella fase in cui l'agente immobiliare entra per la prima volta o per la seconda volta nella casa del potenziale cliente e si presenta con una presentazione, una valutazione ben fatta, ben costruita, che tiene conto dei dati di cui parlavi prima. Però prima di entrare in quella casa per conoscere magari meglio o prima di altri che c'è un'intenzione di vendita, c'è bisogno della tecnologia anche per ricercare i potenziali venditori. Massimiliano, Casa Share nasce come assistente virtuale per favorire appunto l'acquisizione. Dopo anni di storia e pratica sul campo, come vedi l'adozione della tecnologia in questo settore, cioè quello dell'acquisizione? Allora, è molto importante quando parliamo di tecnologia anche capire quanto le nostre aziende, insomma le aziende che vengono rappresentate qui oggi, insomma fanno uno sforzo anche per venire incontro a quelli che sono i nuovi strumenti per fruire poi della tecnologia, che sono i device come smartphone come tablet, quindi riuscire comunque poi a fruire di queste tecnologie in maniera anche immediata. Ecco, in questo caso noi abbiamo proprio lanciato il termine acting finder, assistente diciamo assistente virtuale legato all'acting finder proprio perché abbiamo lanciato da un anno a questa parte, forse di più, forse siamo stati una delle prime società a lanciare proprio un'applicazione da poter far scaricare agli operatori del settore proprio per ricevere comodamente all'interno del proprio device, appunto una raccolta di tutti gli annunci immobiliari, per esempio in questo caso da privato, reperiti insomma dalle varie piattaforme. Nonostante, ci tengo a sottolineare che nonostante insomma le politiche anche abbastanza conservative da parte ovviamente delle grandi piattaforme, dei grandi portali, ancora oggi avere il dato aggregato che deriva appunto da più fonti risulta essere un vantaggio competitivo. Quindi assolutamente possiamo dire oggi di essere un sistema che riesce in assoluta comodità a fornire all'agente immobiliare l'opportunità di essere tempestivo e arrivare prima sulle informazioni. Pensi che l'agente immobiliare è in una fase in cui è ben predisposto ad accettare questo cambiamento evolutivo verso la tecnologia per fare questo processo? Ma allora, per quanto riguarda la questione del processo in sé, cioè acquisire le informazioni, l'agente immobiliare l'ha sempre fatto fin da quando fa questo... No, no, attraverso la tecnologia, interni. E dovrà necessariamente farlo, cioè nel senso più andiamo avanti più le informazioni non possono essere più ritenute di serie A o di serie B o comunque più o meno fredde o calde. Il web verrà utilizzato, il web viene utilizzato a qualsiasi ora, in qualsiasi momento e una persona può decidere di esprimere la volontà di vendere un immobile su più fonti, più canali. Guardiamo oggi per esempio anche quanto sta prendendo piede il marketplace di Facebook anche sotto questo punto di vista. Quindi Facebook è sicuramente un altro canale che va tenuto sotto controllo, oltre alle classiche piattaforme di annunci immobiliari. Senti, allora, nella fase di acquisizione, uno degli elementi che l'agente immobiliare sfodera per dire io sono meglio di un altro, c'è anche la modalità di proposizione, di collocazione degli immobili sul mercato, attraverso vari sistemi che la tecnologia appunto in questo momento ci mette a disposizione e di cui l'agente immobiliare può farsene carico. Gianmarco Toscano, planimetrie.net. L'abito fa il monaco e la presentazione è tutto. Come si colloca il vostro servizio rispetto alla creazione di valore nella meditazione? Quindi quel valore che fin dalla fase dell'incarico io posso sottoporre alla parte venditrice per dire guarda, se dà l'incarico a me io potrò andare sul mercato in questo modo. Ma io credo che la prima impressione sia tutto, sia fondamentale, anzi una buona prima impressione. E quindi come all'interno dell'immobile, all'interno dell'appartamento fisicamente si può intervenire con l'home staging per valorizzarlo, ok. Però per quanto riguarda la parte digitale, sui portali, nei vari annunci, la buona prima impressione la crea il virtual tour, le fotografie professionali e sicuramente io ritengo che le planimetrie siano veramente importanti. Perché sono l'unico strumento che fa comprendere a chi è intenzionato a visitare quell'immobile la dimensione degli spazi, l'organizzazione funzionale all'interno di questi, la quantità di camere da letto, l'esposizione della zona giorno, della zona notte, insomma tantissimi fattori. E quindi le nostre planimetrie dipinte sono un altro strumento di marketing efficace, come gli altri che ho nominato, come virtual tour, come l'home staging, le fotografie professionali e via dicendo, proprio perché lasciano un'emozione, colpiscono la parte più intima dell'utente, che è quella del sentimento, dell'emotività. E quindi le nostre planimetrie dipinte è vero che sono un prodotto artigianale, quindi analogico se vogliamo, però vengono convertite in formato digitale, messe a disposizione attraverso uno strumento importante, che è quello offerto dal nostro sito internet e quindi da internet in senso generale, e quindi diventa uno strumento assolutamente digitale e apprezzato in più parti del mondo. Proprio nell'ultimo anno, insomma con il Covid-19, si è scoperta l'esigenza di una gestione contrattuale a distanza, continuando quindi questo percorso che l'agente immobiliare fa per acquisire, poi arriveremo alla fase della vendita. Dopo il boom registrato durante il lockdown, chiedo a Federico Pagliuca di iRealTorts, quanta strada c'è ancora da fare perché la firma digitale sia intesa come standard e non come esigenza legata all'emergenza? Grazie Paolo, ma diciamo che innanzitutto c'è da dire che sicuramente il Covid ha sancito seriamente quello che è il passaggio dall'analogico al digitale e c'è assolutamente bisogno oggi di un'operatività in digitale, a Realtors si è dimostrato un abito alleato sia nel primo lockdown ma anche poi successivamente per riuscire a contribuire all'operatività dell'agente immobiliare, a non farlo fermare, a continuare a farlo fatturare. Ora la strada da fare siamo solo all'inizio, leggevo l'altro giorno delle statistiche anche parlando di altre industrie, quindi non solo dei mercati immobiliari, come il Covid abbia accelerato i processi, pensiamo solo agli e-commerce che il processo è stato accelerato di 5 anni, stamattina è uscita una notizia che dovrebbe uscire in gazzetta ufficiale la possibilità di fare le assemblee di condominio in remoto, oppure quello che già sappiamo anche grazie al Covid che le assemblee societarie dei soci possono essere fatte in digitale. Il mondo era già in quella direzione, il Covid ha accelerato questo processo e lo ha accelerato anche nel settore immobiliare, ma siamo solo all'inizio, l'agente immobiliare oggi ha preso coscienza di quali sono gli strumenti e di come possono essere veramente un alleato principale per l'operatività, ma c'è ancora tanta strada da fare per far sì che non sia spot, ne ho bisogno perché ho un cliente a distanza, ne ho bisogno perché sono a casa in quarantena, non so come fare e non posso fermarmi dal fatturare. Diciamo che la nostra vision, magari ne parleremo anche dopo, non è un'operatività a distanza quando ne ho bisogno, ma è una forma mentis che passa su tutto un processo che nasce e rimane in digitale e come stiamo vedendo adesso possiamo tracciare tutta la filiera, dalla semplice gestione dell'acquisizione fino alla vendita può essere gestito tutto in digitale e noi seguiamo perfettamente tutta questa strada e siamo alleati degli agenti immobiliari per velocizzare, dare trasparenza e certificare tutto questo processo. Dunque, mentre parliamo mi rendo sempre più conto che ognuno di voi presenti in questa tavola rotonda, rappresenta uno strumento di marketing in ogni fase e per arrivare alla fase, diciamo abbiamo fatto la fase dell'incarico, per arrivare alla fase della vendita, come proporre al meglio i nostri immobili. Edoardo, arrivo a te, realistico, in cinque anni ha portato sul mercato uno standard di successo per le visite virtuali. A ruota sono entrati nel mercato anche i portali di annunci immobiliari, ma l'innovazione è quasi sempre figlia degli outsider, no? Perché? Perché, intanto grazie Paolo per la domanda, le figlie degli outsider semplicemente perché è abbastanza normale, avviene in qualunque industria che, come dire, un elemento di miglioramento, di efficientamento o anche solo di, diciamo, ottimizzazione per il cliente finale, per l'usufruitore finale, arrivi dall'esterno, arrivi da qualcuno che non è un operatore interno al settore. Noi con il realistico, quando siamo partiti cinque anni fa, non ci occupavamo, precedentemente non eravamo aggiunti immobiliari, non sapevamo, devo essere sincero, niente di immobiliare, ci siamo messi lì, abbiamo studiato, abbiamo pensato, ed era una supposizione, che servisse un livello di trasparenza visivo, perché quello che noi cerchiamo di risolvere è proprio questo nella promozione dell'immobile, la trasparenza che il cliente cerca, pensavamo che la tecnologia lo potesse aiutare, allora da lì abbiamo costruito un prodotto che poi, come hai detto tu, è stato utilizzato, è stato utilizzato anche perché ciò su cui noi abbiamo investito è stata la semplicità d'uso, cioè mettere a disposizione, arrivando dall'esterno, uno strumento complesso difficilmente potrà avere una larga adozione da parte del settore, in questo caso delle agenzie immobiliari. Noi abbiamo detto, cerchiamo di costruire un prodotto che sia semplice e che allo stesso tempo, in tempi brevi, costi contenuti, riesca a mettere le agenzie immobiliari in condizioni, gli agenti immobiliari in condizioni di offrire un livello di trasparenza visivo nella promozione dell'immobile, decisamente maggiore rispetto allo standard che c'era in quel momento. Ora ovviamente in questi anni le evoluzioni sono state tante e quest'anno questo tipo di strumento è anche stato visto come elemento che permetteva di promuovere al meglio e di continuare a operare, questa è la cosa che, devo essere sincero, ci ha anche reso molto orgogliosi di vedere che il prodotto veniva riconosciuto in questo senso come strumento facile da utilizzare e decisamente utile, essenziale in alcune fasi di quello che tutti quanti abbiamo vissuto quest'anno. Bene, quindi insomma come vedete è sempre, cioè durante il lockdown come diceva prima Federico, alcuni processi tecnologici sono stati accelerati, quindi anche le visite virtuali, ci dicevamo in quel periodo con te appunto di quanto fossero utilizzate attraverso i portali ovviamente, di quanto le persone in quel momento di lockdown avessero più tempo e avessero scoperto che l'esistenza di questa cosa e quindi privilegiavano la visione di immobili con questo tipo di servizio perché potevano visionarli a distanza. Patrick, in una ipotetica filiera di servizio di compravendita digitale, quali consigli daresti a un agente evoluto che voglia mettere a frutto la potenzialità del dato e in che modo Reopla può aiutarmi? Allora, in un intervento che ha finito poco fa la mia collega si parlava di come ormai i cambiamenti avvengono in maniera esponenziale e non più lineare e quindi ci troviamo a un mercato che cambia con una velocità a cui non siamo abituati. Cosa significa questo? Che le persone si sono abituate in un tempo brevissimo ad avere tutto subito. Quando si parla di web ormai si sa e sembra che tutte le risposte siano nel web, sembra che io possa avere qualunque risposta o qualunque cosa di cui necessita con un click. Sicuramente le agenzie in futuro dovranno far fronte a tutto questo, i loro clienti saranno più esigenti, non vorranno più aspettare neanche tre ore per la risposta ad una richiesta su un immobile, non vorranno doverla fare quasi quella domanda perché ci dovrà essere una visita virtuale, ci dovrà essere tutto quello che serve per far sì che quella domanda quasi non debba essere posta e le agenzie immobiliari dovranno trovare un modo per essere pronti a rispondere immediatamente a qualunque esigenza del cliente, ma perché poi saranno loro stessi a pretenderlo in altri settori quando poi sono loro ad essere i clienti. Cosa significa questo? Attraverso i dati, quindi i dati sono utili, sono fantastici, i dati praticamente ti danno la direzione in qualunque scelta tu debba prendere, ma sono utili solo laddove vengono seguiti tre passaggi fondamentali. Il primo è quello di raccogliere dati, siamo ancora poco abituati, c'è Angelo che credo abbia fatto un intervento prima di Gestim, lui dice sempre che le agenzie immobiliari hanno una marea di dati ma poi si dimenticano di inserirli all'interno dei contenitori che comprano per tenerli. Prima cosa raccogliere i dati, quindi avere a disposizione più fonti per raccogliere i dati. La seconda parte fondamentale per poter usare dei dati a vantaggio nel proprio lavoro è quello di saperli gestire. I dati sono diversi, ogni fonte fornisce dati differenti e se noi vogliamo poter leggere quei dati devono essere gestiti in maniera corretta. Quindi le agenzie immobiliari dovranno dotarsi sicuramente dei software CRM, in realtà qua stiamo parlando di qualcosa di dieci anni fa. Dovevano dotarsi, dovevano. Non dovrebbero. Però sarà fondamentale perché se io sono un cliente acquirente e oggi una volta che vedo l'immobile per l'agenzia se quell'immobile non l'acquisto non mi interessa, in futuro non sarà così perché quel cliente sceglierà, e mi viene facilissimo ricollegarmi ad altri interventi di oggi, Rudy, Bandier, sceglierà non più magari solo l'immobile, ma sceglierà il brand che più si addice a quello che lui vuole. Il che significa che se ci saranno dieci agenzie che mi hanno mostrato immobili, se una di queste mi ha risposto dopo pochi minuti, mi ha dato quello che avevo bisogno e mi segue nel mio processo, molto probabilmente nel momento in cui dovrò scegliere un'agenzia a cui affidarmi, sceglierò quella. Quindi oggi non avere un CRM è assolutamente impossibile per un'agenzia, non avere dei servizi che aiutino la gente ad ottenere che sia la valutazione o che sia una visita virtuale o che sia la fotografia, rapidamente, immediatamente. La tecnologia serve a questo, a nostro parere la tecnologia serve a questo. Che cosa faremo in futuro in Reopla? Continueremo esattamente sotto questo aspetto, abbiamo dei nuovi prodotti che stiamo realizzando e vanno tutti in questa direzione. Probabilmente con questa risposta hai risposto anche alla domanda che ha fatto Orazio Simeone che ci dice, secondo voi la valutazione di un immobile fatta dall'agente immobiliare è sempre in linea con quello che effettivamente vorrebbe realizzare il venditore? Sono in linea con i valori indicati nelle perizie effettuate da tecnici periti incaricati da una banca X per periziare un immobile Z che in seguito sarà concesso in garanzia? No, la risposta più semplice è no, nel senso che arrivare a dare una valutazione, innanzitutto bisogna definire che questa è una valutazione corretta, perché se si parla di compravendita, quindi di un immobile che deve andare sul mercato, la sua valutazione commerciale è una, la sua valutazione di valore del bene è differente, cioè quella che farà un perito per una banca è differente, sono a mio parere due metodologie completamente differenti, una deve tener conto di quello che è il mercato, della richiesta del mercato attualizzata in questo momento, una deve tener conto di tutti i parametri oggettivi calcolabili su quelli immobili, quindi no, mi dilungo ancora un secondo su questo perché in realtà una fortuna di essere in Italia è che in questo momento c'è ancora pochi dati, i dati sono pochi frammentati e eterogenei, questo va a tutto vantaggio dell'agenzia immobiliare, sono ancora in tempo in questo momento per raccogliere, gestire e leggere correttamente questi dati meglio degli altri, cosa che in altri paesi è un pochettino più difficile, negli Stati Uniti ormai i software ad esempio automatizzati hanno un margine di errore del 4%, quindi in Francia l'Eta Lab ha messo in condivisione tutto ciò che è possibile condividere, compravenduto e questo rende ovviamente quella fase della valutazione perché come ci dicevamo fuori a telecamere spente non è tutto, perché magari non si tiene conto dello stato dell'immobile, dell'esposizione, però il dato certo è metri quadri, valore, poi dietro quello c'è tanto altro. Allora Federico, qual è la visione di insieme di iRealtors riguardo alla transizione dell'operatività degli agenti immobiliari verso il digitale, dovendo tracciare una roadmap da dove partiresti? Guarda, prima Patrick parlava di immediatezza del web, quindi l'esigenza dell'utente di andare a richiedere un qualcosa e avere una risposta immediata, io parlo che c'è anche un'altra esigenza oltre all'immediatezza, l'esigenza di mostrarsi sempre più trasparenti, sempre più con un'operatività certificata e sempre di più con un'immagine professionale, quindi io vedo questo e vedo come gli agenti immobiliari passando al digitale, proprio come forma mentis, quindi non all'occorrenza, ma come forma mentis possono veramente andare ad arricchire la loro immagine professionale e possono dare uno strumento che l'utente finale si aspetta, si aspetta perché come sull'immediatezza del web, se oggi devo comprare qualcosa su un sito internet mi aspetto immediatezza, se no me la dà un sito me ne vado a prenderla da un altro sito e la stessa cosa avviene nelle transazioni immobiliari e nei processi che vengono adottati. L'utente finale oggi è abituato, ora parlo di Ariatoss ovviamente, è abituato già alla tecnologia delle firme elettroniche e dei contratti digitali, dove si gira in qualsiasi ambito utilizza un contratto in digitale o firma in digitale. Ecco, nel real estate noi siamo stati un po' i pionieri già due anni fa, in tempi non sospetti come dico io, proprio per una vision che voleva dare un servizio all'avanguardia, volesse veramente dare trasparenza e certificare dei processi, oggi devo dire che invece il mercato ovviamente si è aperto e quindi ormai anche nei real estate le persone si aspettano di avere immediatezza, voglio fare una proposta d'acquisto, è pronta, te la mando, la firmi, oppure guarda io voglio venderla a casa, non posso venire in Italia a fare il preliminare, come facciamo? Non ti preoccupare te lo sto mandando, lo firmi, è immediatezza, ma nello stesso tempo unisce anche la trasparenza in un processo che è certificato e quindi di conseguenza va anche a migliorare, ad arricchire l'immagine professionale dell'agente immobiliare, che è un agente voluto, ecco come abbiamo detto prima. L'Atelier, adesso noi quindi siamo su questa vision, stiamo lavorando sempre di più, anche perché come dicevo prima, noi ci collochiamo un po' in tutte le fasi, dalla fase di acquisizione, sia la fase di promozione, ma soprattutto poi anche la fase di vendita. Quindi lavoriamo sempre di più per migliorare i processi, migliorare la user experience, che oggi è fondamentale, sia per l'agente immobiliare, ma anche per l'utente finale, per dare un servizio autorevole, efficiente e soprattutto riconosciuto. Stiamo lavorando a delle chicche interessanti, qualcosa abbiamo già lanciato sul mercato, ma sicuramente in futuro ci saranno delle novità interessanti. Speriamo che arrivi qualcosa per Natale, visto che sarà un Natale con qualche ristrettezza. Massimiliano, rispetto al gigantismo dei portali, di annunci e dei dati, che ruolo possono giocare le start-up indie, proprio come Casa Share, nel percorso di digitalizzazione degli agenti? Allora, possono giocare un ruolo veramente molto interessante. Parto per esempio dal dato che riguarda gli annunci dei privati. Grandi portali verticali sul nostro settore applicano delle strategie per poter consegnare prima la notizia ai propri clienti abbonati in termini di abbonamento. Ognuno di questi portali poi applica la sua politica di visibilità sugli annunci dei privati in base a delle scelte che fa. Scusate, ma c'è solo così per salutarlo Vincenzo Vivo, che non so se ci ascolta. Ciao Vincenzo. Noi possiamo giocare un ruolo molto importante, anche perché a differenza dei portali verticali, i portali orizzontali, ne ho citato uno prima, se possiamo chiamarlo così, come Facebook e marketplace, non hanno assolutamente minimamente intenzione di porre restrizioni nella visibilità di un contenuto che deve andare in vendita e di per sé quindi non subiamo e non si subisce nessun tipo di ritardo sotto questo punto di vista, quindi di questo siamo abbastanza sereni. Però dall'altra parte il ruolo fondamentale che giochiamo noi, qui mi ricollego un attimino a quello che ha detto Patrick prima, è che organizzare le informazioni e diciamo tante volte incrociarle con altre informazioni, quindi accorpare più dati possibili, ci mette nelle condizioni oggi di fare, permettetemi il termine, acquisizione conoscendo già chi è l'interlocutore dall'altra parte. Questo è un aspetto molto importante, cioè conoscere chi e quali possono essere le esigenze e quale può essere lo status, diciamo tra virgolette, del nostro interlocutore. Se devo andare a acquisire un immobile di una persona che vende la sua prima casa, solo e esclusivamente la sua prima casa, molto probabilmente avrò un tipo di approccio. Se sto trattando una persona che ha 5 immobili intestati, molto probabilmente il mio approccio dovrà essere differente. E mi viene in mente anche un altro passaggio che mi è venuto in mente grazie all'intervento di Patrick, che si comincia a guardare finalmente molto di più l'aspetto consulenziale più che della mediazione in sé, in questo settore. E questo può essere fatto ad altissimi livelli soltanto se si gestiscono le informazioni. Quindi al di là del metodo operativo che sceglie un agente immobiliare, che può essere più o meno aggressivo, se mi passate il termine, sotto certi punti di vista, ma le informazioni comunque vanno gestite. La propria area va gestita, oggi bisogna conoscere anche i nostri potenziali clienti perché ci sono le tecnologie oggi per farle. Noi ne siamo già una dimostrazione e mettiamo già a disposizione dei tool conoscitivi all'interno del nostro servizio, proprio per aiutarli a comprendere un po' quello che ho detto fino adesso. Certo. Dunque, Gianmarco Toscano, le presentazioni sul web non sono sempre esaltanti, eppure il cliente finale ha bisogno di chiarezza e cura, anche in particolare in questo settore. Quali suggerimenti daresti ai virtuosi della mediazione? Anzitutto suggerirei di migliorare notevolmente l'annuncio immobiliare, perché io ritengo che veramente tutto parta da lì, quindi una descrizione precisa, tanti contenuti, le fotografie professionali, il virtual tour e la nostra planimetria, le nostre planimetrie aiutano l'utente a comprendere veramente tutto l'argomento, in ogni singolo particolare, in ogni singolo minimo dettaglio. Ovviamente inserire tutti questi dati, virtual tour, planimetria, fotografie professionali, fa sì anche che l'annuncio possa galleggiare rispetto agli altri. Quindi è vero, è un investimento, ma è anche l'opportunità di fare in modo che inserendo tutte queste informazioni si possano fare meno visite presso l'immobile e quindi meno visite significa visite mirate, significa occuparsi della parte della trattativa, della parte consulenziale e affidarsi a professionisti come noi nell'ambito delle planimetrie, fa sì anche che inserire una planimetria dipinta rispetto a quella catastale dell'annuncio immobiliare possa emozionare l'utente che naviga sul web, sta guardando 100.000 annunci, si sofferma su questa planimetria che scopre essere dipinta, realizzata a mano, emozionale, lo sorprende, lo impuriosisce, si sofferma a guardare meglio le fotografie, l'immobile, i particolari e tutto e magari si può anche convertire in una potenziale vendita e sicuramente la planimetria dipinta al di là dell'annuncio immobiliare, quindi della parte digitale, può essere anche uno strumento molto piacevole da regalare in una cartellina a chi avrà acquistato la casa oppure da mettere nella vetrina su strada della propria agenzia o perché no anche tante planimetrie ben forniciate nella propria agenzia immobiliare fanno anche sì di migliorare anche lo spazio di lavoro. Bene, quindi sicuramente generare appeal verso il mercato per attrarre e quindi far leggere l'annuncio e quindi ovviamente spostare l'asse della conversione rispetto alla telefonata e quindi successivamente visita e quindi speriamo vendita. E quindi guardo Edoardo, perché Edoardo ovviamente, tra l'altro c'è una domanda per te, di Alfredo Cerbellati, scusate ma non ci vedo benissimo, qui è scritto piccolissimo, una planimetria è integrabile in un virtual tour? Lo sarà molto presto, è una delle cose che da tanto tempo tutti gli ormai oltre 5.000 agenti immobiliari che utilizzano realistico lo richiedono da tempo. La planimetria aiuta nel caso della visita virtuale a facilitare la navigazione, facilitare l'esplorazione, era bello quello che si diceva prima sul, che Gianmarco Toscano diceva come il virtual tour sia uno degli elementi che ovviamente cattura l'attenzione nell'annuncio, ma c'è da ricordarsi che in realtà la visita virtuale, soprattutto quest'anno, ma noi anche in tempi non sospetti abbiamo lanciato delle funzionalità che in realtà separano un po' l'utilizzo della visita virtuale dall'annuncio e invece mettono la visita virtuale proprio nelle mani dell'agente per gestire una visita uno ad uno tra l'agente immobiliare e il cliente che magari ha già manifestato il suo interesse su quell'annuncio e virtualmente realistico permette alla gente di guidare il cliente finale nella visita. Ecco, poterlo fare con l'aiuto anche della planimetria navigabile ovviamente dà un ulteriore facilitazione, sia all'utente per comprendere se quell'immobile sarà l'immobile che fa per lui e quindi se può andarlo a visitare di persona, ovviamente fisicamente, sia all'agente immobiliare per poterlo descrivere al meglio. È vero quello che si diceva prima, cioè è importante che il numero di visite non deve essere più considerato, il numero di visite fisiche non deve essere più considerato l'elemento fondamentale, perché non è lì che c'è il valore della consulenza della gente. Quello è, come dire, quello che si chiama una commodities, è una cosa che è ovvio ci deve essere, ma il valore dell'agente immobiliare viene dato nella consulenza, nelle informazioni, nella gestione delle informazioni e ovviamente della sua professionalità nella transazione immobiliare che quel cliente magari affronta per la prima volta nella vita e l'agente immobiliare deve essere lì al suo fianco ad aiutarlo. Gli strumenti tecnologici devono tra virgolette fare il lavoro sporco e tutti gli strumenti che sono qui oggi aiutano l'agente immobiliare a fare quel lavoro sporco, a volte in modo completamente automatico, a volte in modo il più semplice possibile, in modo che lui si possa concentrare su quelli che sono gli aspetti di vero valore aggiunto. Senti Edoardo, per il prossimo salto verso l'innovazione dobbiamo aspettare un altro outsider oppure avete in serbo qualche nuovo progetto, vista la recente unione con Casavo? Assolutamente sì, noi per chi non lo sa ancora un paio di mesi fa siamo stati acquisiti da Casavo, dal primo instant buyer operante in Italia. Questo effettivamente ci mette in una condizione molto interessante secondo me perché siamo una startup nella startup a tutti gli effetti, quindi ci troviamo in una, devo dire, molto stimolante condizione di poter creare, costruire prodotti nuovi, efficienze nuove, strumenti nuovi, sempre a disposizione dell'agente immobiliare perché anche Casavo ha nel suo funzionamento una stretta collaborazione con l'agenzia immobiliare, quindi andiamo a lavorare su quello che è l'allargamento di quella che è la rete di servizi o meglio i singoli prodotti, i singoli servizi che gli possono servire, ovviamente con realistico concentrata su quelli che sono gli aspetti visuali che aiutano a promuovere al meglio l'immobile e a gestire anche quella che è proprio la facilitazione della consulenza immobiliare attraverso gli strumenti tecnologici come la visita virtuale. Insomma in questa tavola rotonda che ormai stiamo per chiudere, stiamo per chiudere il sipario, sono emersi tantissime informazioni interessanti, qualcune note, qualcuna l'abbiamo definita chicca da venire, qualcuna è già in procinto di essere messa sul mercato, io intanto ringrazio Federico Pagliuca, CEO di Realtors, grazie di essere stato con noi. Grazie, grazie Paolo. E poi ringrazio voi, che ovviamente parto da Edoardo Ribichesu di Realistico, Patrick Albertengo di Reopla, Massimiliano Pochetti di Casa Share e Gianmarco Toscano in collegamento di Planimetrie.net. Vi do l'appuntamento alle 14 e 15 perché ci sarà una tavola rotonda molto interessante che terrà Gerardo Paterna con Giorgio Ferenaz, spero di averlo pronunciato bene, ci saranno degli ospiti dei più grandi brand del real estate in Italia e il tema sarà l'agenzia immobiliare a prova di pandemia, che ruolo giocano le reti nella transizione verso il digitale? A qualcuno non abbiamo fatto in tempo a rispondere, ma comunque se volete, anche se poi vedrete successivamente questo video, lasciate le domande e le gireremo ai nostri ospiti per darvi la risposta quanto prima. Grazie ancora e buon proseguimento di Sinergie.